Valentina Ascione, Presidente Quarta Commissione Consiliare e Commissione Cultura, per la prima volta alla città di Torre del Greco il prossimo 14, 15 e 16 marzo, presente alla BMT di Napoli, un'occasione per rilanciare il territorio e la sua storia. Questa è la prima volta che il Comune di Torre del Greco sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo e quindi noi come amministrazione siamo fieri e onorati di questa cosa. Abbiamo veramente tante cose belle e tanti monumenti come Villa delle Ginestre ed era veramente un peccato lasciare la città abbandonata a se stessa. Invece adesso con questa opportunità di partecipare alla Borsa Mediterranea del Turismo abbiamo la possibilità di far conoscere il nostro territorio sotto ogni punto di vista e quindi poter accogliere anche in modo organizzato e ben gestito i turisti che hanno l'opportunità finalmente di vedere le nostre bellezze, le bellezze del territorio e anche i nostri manufatti. Lo diciamo ormai da tempo che Torre ha il vantaggio fisico, geografico di essere posta al centro del gulfo di Napoli ma è anche una città che ha tante ricchezze, ha il corallo, i cammei, i fiori, c'è la ristorazione, c'è la pasticceria, c'è il nostro santo e quindi un percorso turistico religioso. Noi stiamo lavorando tantissimo per allargare sempre di più anche le vie del mare ma non solo, stiamo creando d'accordo con il parco del Vesuvio per esempio i sentieri che possono portare le persone con le bike sopra i sentieri e quindi sopra il Vesuvio. Insomma la nostra città ha tutte le qualità e quindi le possibilità per essere una vera e propria città turistica e soprattutto fare in modo che questa possa essere punto di incontro di tantissime cose belle che noi possiamo offrire. Il brand d'oro del greco deve essere fuori d'oro del greco e non deve essere più un brand che appartiene solo ai torresi ma deve essere al servizio non solo delle campane ma dell'intera nazione. La città si presenta e grazie alle energie positive che ancora questo territorio riesce ad esprimere, nello specifico ringrazio le associazioni che hanno realizzato questo percorso con le loro forze nel momento in cui si sono proposte anche alle attività produttive per poter reperire tutto quello che era necessario per poter essere presente in questi tre giorni. In futuro la nostra città dovrà essere promossa quanto più possibile non soltanto in Italia ma anche all'estero. L'idea è nata da due associazioni come ben sapete ed è nata perché abbiamo fatto un percorso verso il Vesuvio qualche mese fa dove abbiamo fatto vedere anche con immagini e filmati tutto quello che è possibile vedere dal Vesuvio verso il mare, verso la costa. Questo è il senso, promuovere tutto quello che abbiamo, quindi cultura, artigianato, nonché il panorama che dal Vesuvio è unico, non c'è nessuna parte del mondo. Saranno presenti nella prima giornata ovviamente tutto quello che è il discorso floroviveistico della nostra città, presenti allo stand perché ci aiuteranno nell'allestimento dello stand. In più ci sarà anche proprio il tipico banchetto dei cammeisti che saranno presenti in fiera insieme con noi e ovviamente abbiamo invitato anche gli altri artigiani a essere presenti. Porteremo con noi una esperienza di corallina presente nello stand e ovviamente con un video promozionale che girerà per tutti i tre giorni abbiamo un po' ripreso tutto quello che abbiamo sul nostro territorio. Nell'ultima giornata ci saranno il nostro sindaco, ci sarà il presidente del parco del Vesuvio, ci sarà il presidente di Assocora e probabilmente non possiamo ancora dirlo ma ci saranno altri esponenti del turismo internazionale dove si discuterà del turismo a Torre del Greco.